Molisi a calci, in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina-Isernia-San Salvo, uscita a Civitanova del Sanni Consul Brokers, piazza della Vittoria 14A, a Campobasso, broker di assicurazione Info 0874 43 86 35 Molisi a calci Buonasera, ben ritrovati con questa nuova puntata di Molisi a calci nella quale parleremo di sport e non solo, anche musica con un gruppo praticamente neocostituito o quasi di ragazzi campobassani ma non anticipo altro parleremo ovviamente di sport, principalmente di calcio con la bella vittoria esterna del Campobasso sul campo del Ponte d'Era che consente ai Rosso Blu di fare veramente un bel balzo in classifica generale ma buone notizie anche dai campi di Serie D esattamente dal Recchioni di Fermo dove l'Isernia vince con due gol veramente bellissimi 2 a 0 e il Termoli che vince 1 a 0 a tempo scaduto contro il Roma City parleremo anche dei campionati regionali vedremo il top e flop due blocchi di Moviola insomma una puntata come sempre che si annuncia ricca di contributi di interviste e due ospiti studio che a breve Sara presenterà Sara Rogoli, buonasera, ben ritrovata anche per questa puntata numero 415 di Molise a Calci Sara Buonasera Gianni, buonasera agli ospiti studio e a voi telespettatori che come ogni lunedì ci seguite da casa ben ritrovati nella puntata 415 di questa nuova stagione di Molise a Calci che vi ricordo potrete continuare a seguire sul canale 11 sia per l'Abruzzo e sia per il Molise ma anche sulle nostre piattaforme social di Facebook, Youtube ed Instagram un ringraziamento speciale, ci tengo a riservarlo a Monica Avigliamento per il meraviglioso abito che sto indossando questa sera e vi ricordo potrete trovare la sua boutique in via Vittorio Veneto dal 14 al 18 ma passiamo adesso alla Serie C settimana ricca di vittorie, quella appena trascorsa appunto partendo da questa serie il campo basso espugna il Mannucci di Pontedera alla mezz'ora è forte a portare la squadra in vantaggio in una prima battuta ma dura poco di fatti sarà pretato al 36esimo a segnare e a condurre il pareggio si scaldano i ritmi ed esplode la gioia per il campo basso all'84esimo con il gol siglato da Di Stefano i pochi minuti di recupero saranno attimi di paura per il campo basso un tu per tu con Corona che colpisce di testa con il portiere rosso-blu ma ancora sarà forte a sventare il pareggio e a salvare il risultato finirà come sappiamo 2 a 1 ottime notizie anche dalla Serie D il Termoli vince in casa contro i Roma City 1 a 0 mentre Lisernia in trasferta pur giocando in 10 si afferma avversario ostico per la fermana chiudendo la partita 2 a 0 scendiamo in eccellenza la vetta è condivisa tra il Guglionesi che porta a casa ulteriori tre punti dopo la vittoria contro il Boiano finita 2 a 1 e il vasto Girardi a quota 12 salutiamo adesso gli ospiti studio che ci hanno raggiunto per commentare il weekend calcistico Luca Cappelletti, attaccante del Baranello salve, salve, buonasera buonasera Luca buonasera e Daniele Di Mario, cantante degli Emotional Pick buonasera Sara, buonasera Gianni buonasera a tutti i telespettatori buonasera allora Daniele Di Mario, chi sono gli Emotional Pick? io ho parlato nella presentazione di gruppo neocostituito innanzitutto la traduzione Daniele tu sei cantante perché Emotional significa picco emozionale esatto diciamo picco emozionale è il raggiungimento della felicità l'abbiamo visto da questo punto di vista i componenti della band siamo in sei ci sono io c'è Alessandro Marchetta alla chitarra solista c'è Danilo Paolone alla chitarra d'accompagnamento Nicola Di Oro al basso Riccardo Cirelli alla tastiera e Massimo Di Cristofaro alla batteria bene, questa è la piccola anticipazione poi ci addentreremo nel mondo degli Emotional Pick ma prima di sentire Braia sul 2-1 di Pontedera aggiungo che nel recupero è stato espulso guadagno dalla panchina il portiere di riserva del campo basso che quindi salterà la partita di Terni la seconda trasferta consecutiva un commento di Luca Cappelletti su questa vittoria ma guarda è stata una vittoria sofferta ho seguito ovviamente gli Highlights perché non ho avuto la possibilità di seguire la partita e vittoria sofferta meritata sono le vittorie più belle quelle all'85esimo quasi fino al 90esimo e quindi ecco noi abbiamo definito la prova di maturità perché il campo basso ha saputo soffrire a inizio secondo tempo e poi ha sferrato il colpo del KO questo è uno step in più che ha raggiunto la squadra di Braia secondo te? ma certamente come detto tu è una squadra che pian piano sta maturando e sta cacciando ovviamente tutto ciò di buono che ovviamente l'allenatore sta dando perché ricordiamoci sempre che Braia è un allenatore che con cammin di campionati sta ovviamente allestendo man mano un gruppo è una squadra ottima e quindi di conseguenza se vediamo anche sul gol spalluto entrato dalla panchina ha fatto il suo e nel gol di forte ci ha messo il suo quindi c'è da dire che è una squadra che corre a voglia ed è una squadra che secondo me riuscirà ad uscire nel migliore dei modi nelle prossime partite sperando ovviamente che a Terni faccia un'ottima figura allora poi sentiremo anche Daniele Di Mario perché Daniele oltre a essere il cantante degli emotional pick sei anche un tifoso del campo basso giusto? sì giustissimo allora Braia che cosa ha detto Sara? sentiamo proprio lui Pontedera campo basso terminata 0 a 2 per il campo basso 1 a 2 1 a 2 1 a 2 scusatemi sentiamo adesso le parole del mister per la vittoria dei rosso-blu mister partita molto tattica abbiamo visto un ottimo campo basso grande vittoria sì la vittoria è importante è giocata bene sono contento per i ragazzi se la sono meritata hanno fatto tanti sacrifici in questi tre giorni perché viaggiare fare sei ore di pulma e preparare una partita senza nemmeno fare un allenamento collettivo non era facile siamo andati dietro a quello che stavano facendo e l'hanno fatto bene abbiamo visto un turnover 5 elementi su 11 si può dire soddisfatto dei cambi a portata ma io se faccio giocare ragazzi è perché ci credo se no mi faccio giocare poi ognuno nel calcio la vende come vuole io io guardo gli allenamenti e poi faccio a volte mi andrà bene a volte mi andrà male e mi romperanno le scatole tanto è sempre così l'allenatore è pagato per essere come si dice quando vinciamo qualcuno dice ma non giochiamo bene giochiamo bene e perdiamo ma non vi facciamo mai gol non accontenti mai nessuno perciò bisogna essere contenti per la gente di Campobasso perché anche oggi c'era tanta gente almeno per me perché fa 6 ore tornare domani mattina andare al lavoro io li posso solo ringraziare e poi veramente ci hanno fatto sentire a casa questo è per loro per la società per i nostri dirigenti che ci stanno vicino tipo Mario e Sergio Filipponi io l'unica cosa che mi sento di dire è che siamo una famiglia una bella famiglia perché le persone che ci girano intorno sono brave persone sì l'intervista dall'ufficio stampa del Campobasso che ringraziamo Daniele Di Mario Braia ecco non non fa trasparire mai una certa soddisfazione oltre i limiti diciamo così sempre sul pezzo è sempre molto diretto devo dire è sempre molto diretto dice come stanno le cose dice sempre quello che gli passa per la testa e questa è una cosa che apprezzo molto di lui argomento turnover via 5 rispetto a giovedì contro il Pesaro e dentro altri 5 significa che vogliono giocare un po' tutti e si fanno trovare pronti sì è vero tra l'altro Spalluto come diceva Luca è entrato bene questo è un buon segnale soprattutto per l'attacco perché se andiamo a vedere nelle ultime due gare sono stati fatti 5 gol Spalluto comunque ha partecipato alla marcatura con l'assist per Di Stefano direi che è veramente un ottimo segnale è un ottimo segnale di gruppo vuol dire che tutti ci tengono che tutti è veramente un gruppo che vuole fare bene e poi in campo si vede la Serie D ha iniziato benissimo Luca Cappelletti abbiamo detto attaccante tu hai detto no non sono attaccante ma sono un jolly in fase di presentazione insomma adesso abbiamo detto attaccante perché hai fatto tre gol in quattro partite quindi non abbiamo sbagliato la Serie D delle Molisane è cominciata davvero molto molto bene l'Isernia ha vinto con due gol bellissimi ma soprattutto con un uomo in meno quindi dimostrazione di cosa affermo ma io penso che in questi campionati la cosa più importante è il gruppo io penso che a Isernia hanno costituito una squadra di ragazzi che comunque vogliono crescere che ovviamente hanno voglia di esplodere perché poi dopo si sa il giovane ha sempre voglia di andare avanti non ha fatto quella grandissima corazzata per vincere il campionato però è una squadra che comunque è giovane corre quindi si sa lo dice anche Braia ai suoi giocatori chi corre ovviamente gioca però penso anche Biglione a voi il vostro allenatore l'allenatore del Baranello inquadratura collettiva e grazie ai nostri tecnici grazie mille per questa inquadratura collettiva dicevi io penso in qualsiasi sport ma soprattutto nel calcio bisogna correre chi corre di più porta a casa ovviamente ma si al di là della tecnica tattica però la corsa è quella più importante Biglione fa come Braia nel senso vi estrometterebbe dopo due minuti se non doveste correre ma guarda al momento ancora non ha provato ancora non avviene ancora non avviene quindi questo esperimento ancora non lo riesce a portare a termine però tu non ti vorresti mai trovare nei panni di uno di un giocatore che esce dopo dieci minuti come i mancini del campo è brutto da una parte però purtroppo di portare il risultato a casa se l'allenatore vede che tu durante la settimana ti alleni e poi dopo ovviamente vai in mezzo al campo e non dai quello che devi dare l'allenatore sta lì per decidere quindi di conseguenza da parte del giocatore è demotivante però da parte dell'allenatore io vorrei portare il risultato a casa quindi di conseguenza se la fai da che parte stai al volo perché dobbiamo andare col prossimo allora io sei un giocatore io vorrei difendere la mia categoria quindi di conseguenza ma devi essere sincero quello che pensi allora io penso che sostanzialmente è brutto quindi è brutto sia entrare a due minuti alla fine e sia uscire dieci minuti durante la partita non ti vuoi pronunciare quindi non mi vuoi tanto pronunciare però io in questo caso qui vorrei difendere la categoria del giocatore che è quella che ricopro anche io abbiamo portato i tre punti a casa questa è la cosa fondamentale sono contentissimo ma questo gol lo dedico perché poi il risultato è quello che conta e se andiamo a vedere ha dato ragione al mister il risultato ok quindi diciamo una risposta nel mezzo abbiamo detto il Termoli che vince al 95esimo contro il Roma City Sara si ricordiamo appunto come è terminata la partita Termoli Roma City 1 a 0 vediamo cosa hanno da dirci Manuel Cannavaro centrocampista del Termoli e il direttore sportivo del Roma City Alessandro Battisti vediamo abbiamo portato i tre punti a casa che era la cosa fondamentale sono contentissimo ma questo gol lo dedico soprattutto a me stesso perché so io i sacrifici che ho fatto gli allenamenti che facevo da solo aspettando il momento giusto e penso questo sia la giusta ricompensa a tutti i sacrifici hai chiamato papà che ha percelso non ancora ma presto lo farò mi senti il risultato è importante però la svolta l'avete dato a voi che siete entrati Galdian te e Cancello alla fine c'è stata quella mossa vincente con le sostituzioni le forze fresche si innanzitutto faccio i complimenti a tutti perché prima delle sostituzioni comunque abbiamo fatto una grande partita ma penso che la forza di questa squadra sia proprio questa che non ci sono né titolari né panchinari chiunque entra da sempre il massimo e lo stiamo dimostrando è un peccato perché è la seconda sconfitta che subiamo al 49esimo al 95esimo del secondo tempo sia la prima giornata che col Sora abbiamo preso gol al quinto di recupero così è successo oggi oggi è un peccato perché penso che la squadra fosse venuta qui a giocare a viso aperto un campo difficile penso che avrebbe meritato sicuramente qualcosa di più nel secondo tempo siete entrati in campo con un piglio diverso e si è visto subito perché avete cercato la via del gol poi però vi siete un po' abbassati quando il Termoli è andato ad offrire gente fresca in mezzo al campo ma io penso che anche i cambi del Termoli erano cambi orientati un po' anche a mantenere la gara a parte quella sfuriata del tiro da fuori penso che noi abbiamo dominato la partita a livello di di gioco a livello di di mentalità questo secondo me è più che grande rammarico mi dispiace per i ragazzi allora c'è stata anche una variazione di orario per quanto riguarda una partita del Campobasso vale a dire quella del 13 di ottobre Campobasso Spal non si giocherà più alle 15 come inizialmente stabilito bensì alle 12 e 30 quindi questo spezzatino che evidentemente prosegue allora Termoli anche molto bene vince convince in casa c'è allora domenica c'è Castelfidardo Termoli e Isernia a Teramo sperando che Isernia torni a calcare il proprio campo e che quindi sia terminata la semina ma soprattutto ci sia l'erba allo stadio di Isernia Luca al volo sul Termoli Termoli prima di tutto è una squadra anche come Isernia una squadra giovane il presidente sono tanti anni questo mi pare che il terzo e il quarto anno che sta a Termoli quindi di conseguenza crede nel progetto Termoli sappiamo che è una piazza che potrebbe militare anche in Serie C quindi di conseguenza in tanti anni l'ha fatta questa categoria quindi penso che farà la sua bella figura l'ha fatta già con l'Aquila in casa rischiando di vincere poi alla fine ha pareggiato mancano due punti alla classifica del Termoli altrimenti sarebbe stata ancora più buona di quanto lo è adesso certamente noi facciamo il rimbalzo tra calcio e musica volevo chiedere a Daniele Di Mario come è nata l'idea del picco emozionale degli emotional pic che si sono tra l'altro esibiti da poco anche poi vedremo delle immagini nella seconda parte a campo basso sì diciamo che è nata un po' per gioco ci incontravamo la sera ci facevamo una cantata una sonata una birra insieme dopodiché dopo un po' di mesi la gente ci ascoltava amici e ci propone perché non vi buttate perché non vi buttate e alla fine l'abbiamo fatto ed è nato è nato questo progetto che stiamo portando avanti che musica proponete proponiamo grandi classici della musica italiana da Vasco a Zucchero a Liga Antonacci Grignani con anche qualche tocco di musica un po' più moderna Destri Coez bene bene allora da ascoltare che emotional peak vedremo delle immagini nella seconda parte questi ragazzi tra l'altro età variegata giusto? sì sì diciamo età variegata si parte dal più piccolo dal più piccolo che Riccardo che è del 98 quindi 26 al più grande che Danilo che ha? 45 anni beh quindi abbracciate 20 anni e quindi oltre a essere amici siete anche compagni di band allora vediamo invece l'altro contributo relativo proprio alla serie D Fermana i Sernia 0 a 2 ascoltiamo adesso le parole di Dario Bolzana allenatore della Fermana e Alessandro Nasini vice guardiamo abbiamo visto che siamo superiore all'avversario secondo me la partita la dovevamo incanalare già a livello di risultato nel primo tempo abbiamo provato a vincerla sin dal primo minuto della partita ma sicuramente non siamo stati come hai detto te incisivi quando tu giochi in casa ed entri così tante volte in area avversaria batti così tante pali native tu la partita la devi incanalare sin da subito siamo andati in vantaggio nel momento migliore probabilmente che potevamo chiedere ai ragazzi di dover andare in vantaggio siamo rientrati in campo consapevoli che sarebbe stata una partita diversa che avremmo dovuto lottare con i denti per portare a casa qualcosa però sinceramente ce la siamo complicata da soli perché noi abbiamo un portiere che secondo me è un portiere non di categoria ma di categoria superiore di gran lunga e oggi ha fatto un errore che purtroppo abbiamo pagato perché abbiamo sofferto fino alla fine e poi siamo riusciti con la gran punizione di Focundo a chiudere la partita sul 2 a 0 ma è stata una sofferenza per oltre mezz'ora con Bolzan Cappelletti l'argentino Bolzan sì Dario Bolzan è un grandissimo attaccante stavamo insieme abbiamo fatto il pre-campionato a Sulmona ti parlo di quasi 11 anni fa è un giocatore di alta qualità quindi ma due gol bellissimi dell'Isernia uno di Ercolano uno di Cascio bellissimi Cascio lo sappiamo Ercolano se ricordo bene lo scorso aveva cominciato col Campobasso però non ha giocato mai quindi un ragazzo dalle buone prospettive Cascio ogni domenica ha un sinistro bellissimo formidabile quindi sono giocatori di esperienza che fanno la differenza vengo a farla apposta la prima vittoria dell'Isernia grazie a un gol suo è arrivato in casa sì speriamo bene dai speriamo bene dell'Isernia male queste neo retrocesse dalla Serie C Fermana e Reganatese la stessa Reganatese si è fatto praticamente quattro sconfitte consecutive allora vediamo la Moviola Sara come ogni lunedì ci soffermiamo sulla prima parte dedicata alla Moviola interamente curata dal nostro direttore Antonio Di Lallo guardiamo la Moviola in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali nella sede in via Cavaliere Italo Paglione nella zona industriale di Ripali Mosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1954 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo con Gelindo passo per un fallo per un fallo di Ladinetti su Calabrese torniamo un attimo dietro insieme al nostro regista Donato Mignogna perché c'è un calcio di punizione di forte la palla spiove nell'area toscana vedete la sfiora Bosizio e poi c'è questo fallo di Ladinetti su Calabrese avviciniamoci con la lente di ingrandimento l'arbitro è lì il signor Mastro Domenico di Matera ma secondo noi non vede un fallo che avrebbe dovuto portare al calcio di rigore perché vedete Calabrese che è il giocatore in maglia bianca che sta per prendere il pallone alle spalle su di lui c'è il fallo di Ladinetti che disinteressandosi della sfera travolge completamente Calabrese questo era calcio di rigore in favore del Campobasso che il signor Mastro Domenico di Matera invece non ha colpevolmente concesso trentesimo del primo tempo va in vantaggio il Campobasso una bella azione di Forte che poi si accentra vede sulla destra di Stefano che colpisce il pallone vedete che cerca di colpire il pallone sull'uscita del portiere del Ponte Dera che si chiama Tantalocchi ma se ci avviciniamo anche qui perché poteva esserci anche qui l'estremo per un calcio di rigore in favore del Campobasso però con la lente di ingrandimento vediamo che il portiere in uscita del Ponte Dera con le mani tocca il pallone vedete eccolo qui questo è il momento palla che cambia direzione quindi non era fallo su Di Stefano ma buon per il Campobasso che è forte che aveva iniziato l'azione vedete si trova proprio lì al momento giusto e quindi insacca il gol che vale il vantaggio del Campobasso tra l'altro un gol meritato da Forte perché insomma era stato proprio lui a cambiare gioco e quindi a portare il pericolo alla rete avversaria undicesimo del secondo tempo voleva in rigore il Ponte Dera per questo presunto fallo di Calabrese su Italeng però anche qui se ci avviciniamo con la la nostra telecamera eccolo qui vediamo che c'è un momento in cui si vede che Calabrese praticamente tocca il pallone vedete il momento è questo eccolo qui Calabrese tocca con la punta del piede destro il pallone che cambia anche direzione a questo punto Italeng si lancia in un volo plastico nemmeno si fosse in piscina e quindi ha visto bene qui l'arbitro che l'arbitro di Matera che non solo non ha concesso il calcio di rigore al Ponte Dera che non c'era come abbiamo visto ma vedete ammonisce anche Italeng per simulazione corretta qui l'interpretazione dell'arbitro e il gol che ha portato al primo successo del Campobasso in trasferta rivediamolo anche con il nostro touchscreen perché è un gol tra l'altro molto bello da un cross dalla destra vedete c'è il colpo di testa di Morelli spalluto che appoggia al suo fianco alla sua sinistra a Di Stefano vedete che dal dischetto del rigore praticamente indovina l'angolo giusto e fa fuori il portiere avversario per un successo che porta tre punti pesantissimi nella classifica del Campobasso ottavo minuto del primo tempo al Cannarsa dove il Termoli ha battuto il Roma City qui va vicinissimo al gol esattamente Barone al terzo minuto del primo tempo su cross di Tribelli vedete Barone che colpisce molto bene di testa sul primo palo è però il palo dove si trova il portiere del Roma City che riesce ad intercettare la sfera quinto minuto di recupero veramente bravissimo Cancello che vedete affonda sulla sinistra dell'area di rigore della compagine Laziale poi effettua una finta bellissima che fa fuori due giocatori palla dietro a Cannavaro che tira prontamente con il sinistro vedete Cannavaro c'è il tuffo del portiere del Roma City Roma City Mattei la palla il tuffo non è proprio preciso la parata praticamente è molto imprecisa fatto sta che il pallone vedete se andiamo un attimo prima un frame prima sull'errore del portiere del Roma City poi andiamo avanti qui perché c'è un momento in cui il portiere tocca il pallone con il braccio sinistro eccolo qui è questo vedete palla nettamente entrata Termoli che conquista una vittoria pesantissima Isenne in dieci uomini che espugna fermo questo è il primo gol dell'Isenne tra l'altro bellissimo di Ercolano che vince vedete un contrasto al limite dell'area poi decide di calciare nella maniera più difficile perché calcia con l'esterno destro e il pallone prende un giro a rientrare che va praticamente ad insaccarsi nel sette alla sinistra del portiere marchigiano gran gol di Ercolano per il vantaggio bianco-celeste ancora più bella se possibile ma veramente questa è una gara veramente di i due gol dell'Isenne sono uno più bello dell'altro perché Cascio su calcio di punizione al 47esimo del secondo tempo vedete sembra che va a mettere il pallone con le mani anche lui all'incrocio dei pali e per l'Isenne vedete che bel gol e l'Isenne conquista una vittoria veramente importante bellissimi i due gol dell'Isenne li abbiamo rivisti ancora una volta ma soffermiamoci per la Moviola su Ponte Terra a Campobasso dove il Campobasso dopo tre minuti ha invocato un calcio di rigore Luca Cappelletti lo abbiamo visto lo rivediamo con le immagini mentre Luca e Daniele commentano che cosa hai visto dalle immagini allora secondo me il contatto c'è quindi la protesta del Campobasso se vediamo bene proprio l'azione già c'è una piccola trattenuta e lì il difensore fa l'ora dietro rigore al 100% quindi è strano che l'arbitro mancò a 5 metri ha visto una cosa del genere quindi sono episodi che purtroppo ti possono effettivamente l'arbitro era molto ben posizionato Daniele Di Mario io sono pienamente d'accordo con quello che dice Luca questo è un rigore che può essere tranquillamente fischiato abbiamo visti fischiati di peggiori diciamo quindi per me è anche rigore chissà che cosa ha potuto vedere o non vedere il direttore di gara Mastro Domenico di Matera fatto sta che qui sembrano esserci gli estremi per il calcio di rigore per quanto riguarda Termoli il gol è bello perché è molto ben congegnato perché il giocatore che ha fatto praticamente l'assist all'indietro dà la palla e quella la chiave di volta cioè magari possiamo sempre rivedere con le immagini un altro avrebbe messo al centro c'era un attaccante del Termoli al centro invece arriva la corrente Cannavaro che segna lì significa insomma che si gioca molto a memoria Luca ci riferiamo al Termoli lì parliamo proprio di intelligenza calcistica può essere tanto giovane tanto esperto ma lì come abbiamo visto anche nelle immagini prima si vede proprio che l'asse difensivo va tutto verso la porta quindi si stacca l'attaccante in questo caso in questo caso qui i difensori vanno verso la porta c'è il rischio anche dell'autogol quindi qui è stato bravo perché la difesa infatti si vede i tre difensori vanno tutti verso la porta e ha liberato proprio l'attaccante è stato bravo sia per aver fatto la sterzata che per aver scelto di appoggiare all'indietro per una doppia scelta poi c'è diciamo un'indecisione dell'errore del portiere del Roma City però di fatto è un gol veramente molto ben orchestrato Daniele sì è vero si vede la sterzata un bel gesto tecnico il passaggio dietro è stata veramente una bella azione intelligenza calcistica perché magari se la metteva dentro poi non andava a finire così sicuramente c'era un groviglio di uomini del Roma City quindi intelligenza calcistica sulla quale concordano i due nostri ospiti adesso dobbiamo fare Sara ecco rivediamo ancora che la palla che sfugge al portiere del Roma City una piccola pausa ci fermiamo adesso per una piccola sosta pubblicitaria ma torniamo tra poco di nuovo in studio seconda parte di Molise a Calci insieme all'amico Luca Cappelletti a Daniele Di Mario il cantante degli Emotional Peak e possiamo vedere qualche immagine proprio di questa band neocostituita io dico neocostituita perché avete una vita Daniele di un anno un anno poco più sì sì un anno veramente un anno abbiamo iniziato ad esibirci in questo agosto fortunatamente abbiamo avuto la possibilità di esibirci più volte siamo esibiti a Santo Stefano alle Quercigliole a Ripari Mosani il video che stiamo vedendo qui è Duronia al bar di Duronia siamo esibiti domenica scorsa in piazza a Campobasso quindi ci è stata data questa chance noi l'abbiamo costa pieno e siamo veramente tanto soddisfatti di questa cosa eccovi tutti e sei si vede anche un certo affiatamento fra di voi qui l'esibizione a Campobasso ecco il riscontro anche a Campobasso che è il capoluogo insomma c'è molta gente è stato bellissimo perché abbiamo visto la gente cantare con noi ed è una cosa pazzesca è una cosa fantastica ci siamo divertiti un sacco e spero che lo continueremo a fare ancora per tempo Sara Rogoli per Daniele prego sì Daniele volevo farti appunto una domanda abbiamo coronato questo inizio di questa band questa nascita con alcuni concerti alcune esibizioni che avete fatto durante anche quest'estate mi chiedevo appunto se foste in procinto di proseguire con delle prove soprattutto per il prossimo anno per la prossima stagione estiva abbiamo dei concerti delle esibizioni in programma allora sì assolutamente noi diciamo abbiamo l'impegno settimanale ogni settimana ci si vede si prova si perfeziona quello che abbiamo fatto si amplia il repertorio stiamo cercando di scrivere anche qualcosa di nostro quindi magari esce anche qualche pezzo nostro e per le prossime esibizioni per il momento ancora non abbiamo nulla in programma però invito a seguire la pagina instagram emotional.pick perché potrebbe succedere di tutto entro alla fine del 2024 beh ma adesso ci vuoi stare sulle spine allora dire potrebbe succedere di tutto vuol dire che già avete deciso qualcosa non mi esprimo e non vuoi svelare ma giustamente al pubblico di Telemolizio lascio l'effetto sorpresa cosa volete fare vogliamo vorremmo cercare di pubblicare qualcosa di nostro state scrivendo quindi anche state cercando di rendervi anche autori esatto alla fine l'hai detto no sto scherzando comunque sono dei ragazzi io non conosco tutti ma conosco Daniele Riccardo Alessandro sicuramente pieni di entusiasmo e state iniziando a piccoli passi e il riscontro c'è stato l'ho visto sui video soprattutto a Campobasso e quindi su questo si può costruire un bel percorso anche perché la cosa bella che tendo sempre a ribadire è che prima di essere componenti del gruppo noi siamo grandi grandi amici tra di noi e quindi è questa la cosa bella perché si è andata a formare una sorta di famiglia siamo ormai quasi una famiglia ed è bellissimo perché ognuno può contare sull'altro ed è una sensazione fantastica allora Luca Cappelletti dicevi che che bella l'eccellenza quest'anno ma non scherza nemmeno il campionato di promozione ci siete voi del Baranello c'è il Forulum e adesso ci sarà Baranello Forulum scherzo del calendario siete entrambe prime ma il Forulum ecco io non ti chiedo del Baranello ti chiedo del Forulum nel senso sapevi che aveva qualità oppure secondo te è un come dire fa parte dell'inizio di stagione come valori io non ti nego che lì sostanzialmente ho amici di cui Maglio D'Amico l'attaccante che è ex Esernia quindi ci sono 3-4 giocatori che l'anno scorso hanno militato il cambiato di promozione ad Esernia e hanno vinto a farla apposta contro di noi la finale playoff e quindi hanno fatto una squadra ovviamente per stare lì quindi non vogliono assolutamente vogliono sicuramente ben figurare hanno ripreso da quello che so anche i Cipriani ex Vasto Girardi ex Venafro quindi è una squadra esperta come ovviamente tante altre squadre da cui anche la nostra sarà una bella partita perché comunque siamo due squadre che stiamo lì non siamo lì per caso noi sostanzialmente abbiamo una rosa che ci permette di far girare qualsiasi tipo di giocatore dal difensore all'attaccante perché comunque siamo tutti giocatori esperti infatti siamo tutti utili per qualsiasi tipo di ruolo lo stesso Forulum è una squadra organizzata sicuramente sarà una partita sarà bella sicuramente sarà bella una partita bella anche perché segnate come squadre segnate e prendete gol sto andando un po' a memoria anche il Forulum di solito prende sempre gol ieri avete vinto con il Fortore 2 a 1 insomma una partita aperta diciamo noi questo Baranello Forulum di sabato prossimo sicuramente Luca Cappelletti ha segnato tre gol nelle prime tre giornate giusto quanti gol ha fatto il Baranello? allora attualmente due quattro sì in tre giornate abbiamo fatto sei gol sì quindi la metà li hai fatti tu diciamo la metà quindi abbiamo il Forulum deve stare attento a Luca Cappelletti ma a parte quello c'è una mattonella diciamo mattonella ma tiri sempre dalla destra dell'area di rigore come mai? questo è un qualcosa che provi? ma guarda anche l'anno scorso un paio di gol sono uscite così con questa famosa mattonella da 20 metri dove ovviamente tutti prendono in giro in allenamento oppure durante la domenica dove c'ho quel mio tiro di esterno dove ovviamente i portieri non sanno o classica maledetta perché poi ovviamente io provo anche io vedo i fatti c'è poco da prendere da prendere in giro quindi se Senni tre gol su sei che ne ha fatti il Baranello c'è poco da prendere in giro bravo Cappelletti i numeri purtroppo parlano nel calcio quindi le statistiche senza purtroppo i numeri parlano quindi è così allora vediamo invece Guglionesi Boiano due a uno per il Guglionesi chi abbiamo intervistato? Sara? abbiamo intervistato il mister del Guglionesi Ciro Mennella e Carmelo Gioffre mister del Boiano guardiamo i numeri dicono che tu hai fatto la metà dei gol ben allenato dal nemico Carmelo Gioffre e ci aspettavamo una partita da parte loro compatta organizzata una squadra unita che comunque si difendeva e ci ripartiva in effetti poi abbiamo subito il primo tempo un rigore inaspettato e ha complicato un po' la gara fortunatamente il secondo tempo come tu ben dicevi la squadra ha avuto una grande reazione devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché questa è stata la vittoria di questo gruppo abbiamo fatto una buonissima partita forse potevamo sfruttare di più qualche ripartenza credo che poi alla fine ha deciso l'espulsione dopo l'espulsione abbiamo diciamo sofferto la loro supremazia l'uomo in più l'hanno sfruttato bene ci hanno creato problematiche creando avendo più possesso palla è normale che hanno creato quel qualcosa in più anche se il mio portiere fino a quel momento era stato diciamo inoperoso la mia squadra ha fatto una buona partita dovevamo fare qualcosina in più nella fase di possesso palla perché avevamo alcune giocate che non siamo riusciti a leggere durante la partita forse abbiamo commesso un unico errore sul primo gol che siamo stati lenti nella risalita ma questa Serie C spezzatino ragazzi cosa ne pensate forse troppo spezzatino pensate il turno infrasettimanale anche spalmato su tre giorni da martedì a giovedì poi il turno attuale concentrato invece in due giorni troppo troppo spezzatino qual è il tuo giudizio oppure insomma nulla di nuovo nel senso che ogni anno è stato così Luca ma guarda prima ne parlavamo a microfoni spenti anche con Daniele purtroppo il professionismo è diventato troppo professionismo perché partendo partendo dalla Serie A scendendo nelle categorie del professionismo fino alla C giochi la domenica poi è capace che giochi tre giorni dopo quindi è capace in un mese giochi sei sette partite quindi è abbastanza pesante il campionato del Campobasso è iniziato il 25 agosto siamo al 30 settembre si sono giocate sette partite quindi intasatissimo il calendario Daniele Di Mario su questo sì è vero si giochiano tante partite orari spezzati però ti posso dire che è bella la magia della partita la sera è veramente bella diciamo che quest'anno perché c'è una preferenza per il serale ovviamente anche giovedì sera contro il Pesaro tanta gente contenta di venire allo stadio magari non lo so rispetto alle 15 qual è la magia? diciamo che c'è veramente una bella atmosfera con i fari accesi non so ti dà veramente una bella atmosfera poi per quanto riguarda me non lavoro la sera quindi posso andare tranquillamente allo stadio bene volevi dire una cosa sì volevo dire un aneddoto per quanto riguarda il Campobasso perché negli anni 80 c'era mio nonno che faceva il custode al vecchio Romagnoli non ricordiamo il nome Pasquale Di Mario Pasquale Di Mario bene quindi questo è un ricordo affettivo che ti lega ancora di più alla squadra assolutamente alla squadra della tua città gli emotional peak invece cosa vogliono comunicare? volevo chiedere una cosa dopo i concerti quelli che avete tenuto non ne avete tenuti molti finora però le avete tenuti cosa vi dicono le persone perché molte volte si rimane a parlare si hanno dei riscontri si commenta sì Gianni abbiamo avuto tanti bei riscontri in verità noi non ce li aspettavamo perché come dicevo prima ci siamo proprio buttati a capofitto e abbiamo avuto sempre bei riscontri e veramente è pazzesco perché nessuno di noi si sarebbe mai aspettato questi riscontri perché per come era partita doveva essere tutto un gioco e invece gioco non si sta rivelando invece tu cantante questa passione da quando nasce? perché è un ruolo delicato sì magari non me ne vogliano gli altri è un ruolo delicatissimo diciamo che nasce nelle serate di Campobasso perché c'era un periodo post superiori periodo universitario che si organizzavano molti karaoke qui a Campobasso e diciamo che è nata qui la passione andando a cantare nei karaoke e poi l'ho iniziata a coltivare da autodidatta però l'ho iniziata a coltivare e calcio giocato? calcio giocato sì però ho smesso troppi infortuni mi condizionavano troppo ho giocato sempre seconda categoria qualche volta in prima categoria bene allora invece l'altro contributo Sara del campionato di eccellenza riguarda? riguarda riguarda il San Pietro in Valle e il CNC Sporting una partita a reti inviolate ma ascoltiamo Marco Palazzo allenatore del San Pietro in Valle e Vincenzo Travallini invece allenatore del CNC Sporting sì abbiamo fatto una buona gara con un avversario che sapevamo che l'importanza è con la caratura tecnica di questa squadra ecco una partita era difficile e noi penso che l'abbiamo interpretata bene meglio la prima parte la prima parte di gara dove abbiamo avuto qualche occasione da gol ma tutto sommato il pareggio è giusto e quindi siamo soddisfatti ma noi l'abbiamo preparata penso bene infatti tutte le cose che ci siamo dette in settimana sono avvenute è un campo difficilissimo qua poche squadre faranno risultato noi abbiamo giocato per vincere sinceramente e il secondo tempo abbiamo avuto delle occasioni veramente importanti oltre a una palla da fermo quindi non calci piazzati di gioco a tu per tu col portiere però questo è ce lo prendiamo anzi un risultato positivo volevo chiedere a Luca Cappelletti circa il Baranello quanto vi ha aiutato il finale di stagione in generale tutto lo scorso campionato molto buono culminato con la finale dei playoff poi persa 3 a 0 contro la Iserna lì avete creato qualcosa di buono che adesso vi sta lanciando secondo te anche se poi la squadra ha subito dei cambiamenti sì diciamo al di là dei cambiamenti faccio il nome di Stefano Zull e Manuel Di Chiro che comunque hanno dato un contributo importantissimo negli anni del calcio da Baranello ma soprattutto anche l'anno scorso nell'ultima parte di campionato sì la forza del Baranello è proprio la famiglia il fatto di stare insieme il fatto di allenarsi e poi dopo ovviamente a fine allenamento chi porta la pizza chi porta qualcosa da mangiare quindi l'affiatamento del gruppo è molto importante bene quindi si rimettono tutte le calorie tolte durante l'allenamento le rimettiamo subito ecco forse non passa nemmeno un quarto d'ora dalla fine dell'allenamento che si rimettono le calorie perse e l'obiettivo del Baranello di quest'anno? ma guarda l'obiettivo l'obiettivo si sa e purtroppo siamo condannati a fare bene prima di tutto e a stare lì perché abbiamo esperienza abbiamo soprattutto quest'anno anche dei ragazzini degli under che sono di valore stai dicendo troppe volte purtroppo stasera purtroppo sì lo devo dire perché non mi voglio dilungare più di tanto nel senso che non voglio essere scaramandico però lo sai allora fare bene significa un piazzamento playoff poi tutto ciò che non vorrei suggerire le risposte bravissimo non diciamo niente poi dopo dicembre si può dire qualcosa si può dire qualcosina si può inquadrare meglio la situazione però il Baranello parte da un'ottima squadra con degli under interessanti io ho visto Russo per esempio non è più under però non è più under quindi fatto bene a correggermi citami qualche under allora abbiamo Chiucchiolo che lo scorso stava a Basso Girardi con l'Agnores abbiamo il stesso Pietro Giannetta che è stato con il campo basso abbiamo Palazzo Giovanni Palazzo abbiamo anche Matteo Stinziani che lo scorso stava a Basso sono bravi i ragazzi si vogliono sentire incoraggiati e noi citandoli qui a Molise a calci proviamo ad incoraggiarli sono ragazzi credo 2006 2007 allora questi che ho nominato sono tutti 2006 quindi noi non abbiamo sostanzialmente 2005 quindi abbiamo ragazzi 2006 18 anni sono molto vali i ragazzini quindi ci tengono molto e ovviamente io quello che dico sempre la loro fortuna è di avere prima di tutto una società tranquilla dove non è nessun tipo di pressione ma soprattutto ad avere dei ragazzi e dei giocatori esperti dove ti danno la giusta ovviamente il giusto tatticismo come ti muovere in mezzo al campo come devi fare un taglio in profondità quindi sono molto fortunati a stare in una società seria e soprattutto con dei ragazzi esperti come mi debito io esperto come i miei Guglielmi certo diciamo quanti anni sono che fai i campionati regionali del Molise allora io nel 2010 ho iniziato con Farina con il 2019 sono giusto 14 anni con 14 anni hai 30 anni 31 31 anni non è poco hai un bel bagaglio e sei contestualmente giovane bravo Luca Cappelletti allora ci fermiamo un attimo una brevissima pausa Sara ci fermiamo adesso con una sosta pubblicitaria ma torniamo tra pochissimo restate con noi di nuovo in studio rush finale di Molise a calci poi Sara è andata a individuare un bellissimo top e flop bellissimo più per il top che per il flop non lo so lo sai tu perché l'hai redatto tu e quindi lo vedremo dopo ma Daniele Di Mario Campobasso Ternana o meglio per meglio dire Ternana Campobasso lunedì prossimo ecco se c'è un obbligo qual è? quello in capo alla Ternana? cercare di fare bene sicuramente certo diciamo che è la partita più difficile del campionato forse però sono state importanti queste ultime due vittorie perché uno ci va con fiducia ce l'andiamo a giocare sicuramente ma la Ternana deve temere questo Campobasso? assolutamente sì non sottovaluterei mai il Campobasso perché stiamo dando bei segni e perché no a Ternana a Terni perdonami a Terni potremmo fare bene Luca Cappelletti su questo anche sull'aspetto psicologico perché poi insomma c'è qualcuno che deve non dico vincere sempre ma evidentemente ha l'onere di guidare la classifica di tornare in Serie B come la Ternana ma anche l'Ascoli no perché ho sentito un'intervista del direttore sportivo in questo momento dice siamo in difficoltà non possiamo pensare alla Serie B ecco il Campobasso ci può andare con una testa con meno obblighi questo vorrei dire allora a tuo avviso un commento da parte tua su questo dico io purtroppo penso che nel calcio le motivazioni fanno tanto quindi il Campobasso venendo una vittoria importante a Pontedera sicuramente andrà a Terni a fare la sua grandissima e bellissima figura quindi se hanno se scendono in campo con le motivazioni giuste io penso che non c'è nessuno al di là della Ternana che è una corazzata allenatore Ignazio Abate quindi un allenatore come hai detto l'allenatore ma diciamo che in attacco hanno Cianci Curcio e Donnarumma e Cicerelli che ha fatto 5 gol e l'allenatore Ignazio Donnarumma fino a due anni fa stava con la Sambatoria e chi scusa? Donnarumma fino a due anni fa stava con la Samb quindi stava in Serie B parliamo di giocatori comunque di un calibro che doveva venire al campo basso se ricordo bene poi non è venuto più c'è stata una trattativa quindi di conseguenza una squadra una corazzata che sicuramente io spero che la Ternana che salirà in quanto ha una squadra abbastanza no abbastanza una squadra forte però io se fossi l'allenatore della Ternana e i giocatori non la prenderei come una partita facile perché il campo basso viene da una partita ottima a Pondedera e quindi penso che non sia semplice la Ternana vincere contro il campo basso allora la prossima puntata di Molise a calci andrà in onda causa Ternana campo basso martedì 8 e non lunedì 7 quindi martedì e lunedì 7 ci sarà Rosso Blue Goal sul canale 18 e su Radio Luna a partire da un'ora prima della partita quindi le 19.45 Sara vediamo che cosa adesso adesso vediamo la seconda e ultima parte dedicata alla Moviola interamente curata dal nostro direttore Antonio Di Lallo guardiamo La Moviola in collaborazione con carburanti e lubrificanti Paglione carburanti agricoli e per autotrazione lubrificanti mobile Kuwait oli motore oli idraulici oli per trasmissione cambi e differenziali nella sede in via Cavaliere Italo Paglione nella zona industriale di Ripa Limosani carburanti e lubrificanti Paglione dal 1954 ci prendiamo cura del tuo motore da soli in pochi oppure in tanti insieme con un tipo speciale basta poco per far festa con Gelindo Gelindo e i suoi gelati un dolce e brivido di felicità Gelindo la felicità ha il gusto delle cose semplici sane genuine un brivido dolce di felicità 41esimo del primo tempo a Guglionesi c'è un calcio di rigore per il Boiano se andiamo piano con le immagini vediamo abbiamo anche la lente di ingrandimento ecco qui dobbiamo andare piano perché vedete sul tentativo dell'attaccante del Boiano andiamo avanti qui perché si vede poi con il braccio sinistro eccolo qui tocca il pallone Sacchetti il braccio è largo questo è sicuramente calcio di rigore in favore del Boiano giustamente concesso dal signor Tito Menico di Isernia andiamo avanti con la battuta perché Mauriello insacca il vantaggio del Boiano a Guglionesi Guglionesi che poi vincerà 2 a 1 qui protesta per un fallo di Sulemana difensore del Boiano su Sivilla e se ci avviciniamo anche qui con la lente di ingrandimento probabilmente di rigore c'era perché anche se siamo impallati però vedete il calzettone rosso di Sulemana che colpisce il piede sinistro di Sivilla questo probabilmente era calcio di rigore che invece il signor di Domenico non ha concesso il Guglionesi ha vinto comunque 2 a 1 14esimo del secondo tempo a San Pietro in valle attacca il CNC e il difensore del San Pietro in valle Cristina vedete ferma in questo modo il pallone anche qui se ci avviciniamo con l'ingrandimento c'è un momento in cui si vede che il pallone praticamente colpisce il braccio o il contrario insomma il braccio di Cristina colpisce il pallone esattamente il braccio destro andiamo avanti qui eccolo questo è il momento in cui il pallone proprio viene stoppato qui probabilmente c'erano gli estremi per un calcio di rigore in favore del CNC che il signor Diella di Vasto non ha concesso più tardi al 22esimo del secondo tempo l'arbitro ignora anche un altro fallo dei difensori del San Pietro in valle se andiamo un attimo dietro vediamo ecco questo è il momento in cui Letto attaccante del CNC sposta il pallone arriva ormai Di Bartolomeo che sarà lanciato per una scivolata sul pallone il pallone non c'è più Di Bartolomeo colpisce la coscia lo stinco sinistro chiedo scusa dell'attaccante del CNC questo è veramente calcio di rigore tutta la vita anche questo ignorato dal signor Diella di Vasto 22esimo del secondo tempo a Forli del Sannio c'è questo calcio di rigore concesso allo Spinete per fallo del portiere Ricci su Touré fallo che c'è tutto perché vedete Touré anche in questo caso sposta il pallone e questo è fondamentale per giudicare proprio della dinamica del fallo a questo punto Ricci va ad interrompere la corsa di Touré vedete con il corpo esattamente con l'anca sinistra e quindi questo è calcio di rigore giustamente concesso dal signor Tamburri di Isernia Touré dal dischetto fa 2 a 1 perché il Forum aveva già segnato 2 gol 39esimo del secondo tempo a Trivento calcio di rigore che voleva il Trivento non concesso dall'arbitro il signor Chisena di Termoli anche qui il rigore c'era perché vediamo sul colpo di testa di Civico c'è Magri difensore della Juvenes vedete il colpo di testa e c'è un momento eccolo qui vedete il pallone che praticamente viene intercettato con il braccio destro da Magri questo era calcio di rigore non si capisce perché non concesso dal signor Chisena di Termoli che forse era lontano dall'azione e quindi qui c'era un calcio di rigore in favore del Trivento la partita poi è finita 1 a 1 infine a Guardia Alfiera partita finita 1 a 1 contro il Riccia su questo cross c'è il gol di Greco del Guardia Alfiera annullato per fuorigioco però noi non abbiamo il campo largo vedete sarebbe importante vedere la posizione di Greco in questo momento ma l'immagine è troppo stretta fatto sta che il guardalinea sullo sfondo è sicuramente in linea e quindi segnala poi all'arbitro la posizione di fuorigioco dobbiamo credere per forza alla terna arbitrale gol annullato crediamo giustamente allora d'amicizia stretta con Mario Cordone che lui sta a Pineto ci siamo sentiti qualche giorno prima della partita e mi ha detto guarda Luca è una partita non semplice perché hanno cambiato l'allenatore è fatto stando verso 2 a 1 sì ma mi riferivo proprio ai calciatori può scattare qualcosa a livello inconscio secondo me o l'allenatore non è riuscito proprio ad ambientarsi all'interno dello spogliatoio e in questo caso i giocatori lì lo fanno per lavoro si sono tutti quanti messi tra virgolette d'accordo e hanno fatto tutto pur di far uscire l'allenatore perché è strano perché anche a Campobasso diciamo è stata una squadra a molla quindi buon per noi che ci è andata bene ma è stata proprio una squadra che prendesse otto gol anche a Terni non è bello vuol dire proprio un naufragio è stato esonerato Castaldello ed è andato Contini allora quindi volevo un parere al volo su questo da Luca Cappelletti vediamo che cosa Sara sì allora adesso vediamo il top e flop come ogni settimana se posso permettermi una licenza poetica top va a cum laude ai due gol dell'Isernia mentre il flop questa settimana toccherà altri eventi ma non voglio anticiparvi nulla per non guastarvi la sorpresa per cui vediamo top e flop top all'Isernia e ai suoi due gol realizzati allo stadio di fermo davvero di pregevole fattura sia il vantaggio di Ercolano che il calcio di punizione di Cascio che fissano il punteggio sul 2 a 0 flop a Iocca del Trivento che a tempo scaduto manda fuori a porta vuota una clamorosa occasione dopo servizio di Rodriguez dal fondo sarebbe stato il gol della vittoria triventina finirà 1 a 1 top e flop allora in chiusura abbiamo già elogiati i gol dell'Isernia molto belli l'errore di Iocca? l'errore di Iocca può capitare io dico sempre perciò esistono le categorie c'è stata la Serie A a scendere in seconda categoria purtroppo lì c'è mancanza di concentrazione la tensione poi Iocca mi pare che è anche un ragazzino ovviamente questo è un gioco il top e flop lo andiamo a ricercare insomma nessuna croce addosso a nessuno qui non si criminalizza nessuno è un gioco che fa parte della struttura di questa trasmissione ma certamente certamente però lì vedi la concentrazione al 92 ma sì questo è un fattore importante che può incidere ti è capitato? ma certamente in carriera nei 14 anni di carriera di Luca Cappelletti a voi grazie Luca Cappelletti grazie a voi per tutto è sempre un piacere essere ospite nella vostra trasmissione il piacere è tutto il nostro attaccante del Baranello aggiunga un abbraccio a tutta la comunità di Baranello calcistiche non ovviamente ricordo Baranello Forum sabato prossimo e un abbraccio a Daniele Di Mario il cantante degli Emotional Peak venuto a descriverci a raccontarci di questo gruppo io l'ho detto neocostituito così è in effetti Daniele i programmi per il fine anno e un grosso abbraccio per la vostra grazie per il vostro percorso neo intrapreso grazie mille Gianni grazie per l'invito è stato un piacere è un onore essere qui io faccio una buona serata a tutti i telespettatori e spero che che ci che verrete a sentirci qualche volta allora ricordiamo tutti i ragazzi degli Emotional Peak Daniele Di Mario il cantante sì Alessandro Marchetta alla chitarra solista Danilo Paolone alla chitarra d'accompagnamento Nicola Di Iorio al basso Massimo Di Cristoforo alla batteria e Riccardo Cirelli alla tastiera e mando un saluto anche a loro ovviamente ovviamente un saluto e un abbraccio ai ragazzi ai sei ragazzi degli Emotional Peak grazie Daniele grazie mille a voi Sara allora ci vediamo martedì ci vediamo in via del tutto eccezionale la settimana prossima di martedì 8 ottobre dal momento che lo ricordiamo il Campobasso giocherà contro la Ternana il 7 ottobre di lunedì alle ore 20 e 45 quindi il 7 ottobre ricordiamo Rosso Blue Goal sul canale 18 dalle 19 e 45 e su Radio Luna e noi torniamo alle 21 e 30 di martedì prossimo grazie a tutta la nostra struttura tecnica e ci vediamo martedì dalle 21 e 30 buona serata a tutti buona serata Molise a calci in collaborazione con Design, stile e comfort nel nuovo showroom di D'Amico Arreda sulla superstrada Trignina Isernia San Salvo uscita a Civitanova del Sanni Consul Brokers Piazza della Vittoria 14A a Campobasso Broker di assicurazione Info 0874 43 86 35 Molise a calci di D'Amico Arreda